Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi volevo parlare di un argomento abbastanza controverso, ovvero la negatività e i telegiornali. Perché i telegiornali? Ho postato, anzi in realtà ho condiviso sulle mie storie di Instagram poco tempo fa una foto di una pagina che condivide cose di crescita personale, condivide post interessanti, una storia, un post che parlava dei 10, non mi ricordo, degli 8 motivi per cui guardare il telegiornale non è un'ottima idea e hanno iniziato a rispondermi persone, persone d'accordo e persone in disaccordo e per me è una cosa abbastanza nuova, tra virgolette, perché gli argomenti che tratto normalmente sul mio canale o sui miei social media non sono argomenti soggettivi ma sono argomenti oggettivi, nel senso io documento oppure insegno qualcosa e le persone, come ad esempio una top 10, stavo per fare adesso una top 5 di profumi per CEO, e le persone scrivono sì questo mi piace, questo non mi piace, hanno la loro opinione e va bene. E diciamo che un'opinione costruttiva sicuramente fa comodo un feedback. Però non sono abituato al confronto, tra virgolette, in questi argomenti qua, perché sono argomenti che di solito non tratto. A me la politica non interessa molto, non sono argomenti che tratto normalmente e quindi non sono abituato a questo tipo di controversie. Però mi ha fatto piacere perché sono cose di cui vorrei abituarmi a parlare, quindi dare un po' di più la mia opinione. Perché ricordatevi che sì, è vero, bisogna comunque essere oggettivi e non offendere nessuno, ovviamente parlare con tutto il rispetto e informarsi prima di parlare. Però se si rimane senza bandiera, quindi senza scegliere una posizione, non è il massimo. Si risulta, sembra di rimanere insomma insulsi o persone che non dicono la propria, non hanno così tanto carattere. Quindi insomma se si vuole arrivare da qualche parte nella vita o comunque dire la propria, bisogna non avere paura di dire la propria opinione e sapere o essere consapevoli che nel momento in cui in questi argomenti si dice la propria opinione si ricevono persone contrastanti. Però si ottengono anche persone pro che quindi magari si affezionano ancora di più a te oppure che iniziano a seguirti. Quindi perché la negatività? Allora partendo dal fatto che nel mondo normalmente, soprattutto in Italia per cultura, non siamo abituati alla positività, siamo abituati costantemente a ricevere negatività e ormai è una cosa... siamo normalmente scettici o almeno le persone in Italia, essendo una mentalità abbastanza vecchia, tra virgolette, ma non è colpa di nessuno, è semplicemente nostra cultura. Siamo propensi alla difensiva, quindi se qualcuno ci offre un posto di lavoro oppure arriva e ci vuole donare qualcosa, addirittura noi siamo i primi a dire no, cosa c'è di sbagliato in tutto ciò, non può essere... e questa cosa sì può essere utile in alcune cose, questo scetticismo, questo cinismo, questa paura di essere fregati può essere molto utile, però in alcuni casi può anche essere molto... può essere sintomo di una mentalità chiusa. E quindi partendo da questo presupposto che non è colpa di nessuno, è semplicemente secondo me un dato di fatto, se voi noterete nel momento in cui leggete storie di persone di successo o libri di persone che hanno scritto che sono arrivate al successo, noterete che la maggior parte delle persone tende, di successo, persone arrivate in alto, tendono a evitare i media o a evitare i telegiornali. Perché i telegiornali? Allora, tutti mi hanno scritto, o almeno quelli contro, mi hanno scritto, ma sei un matto, i telegiornali sono informazione, bisogna essere consapevoli, non bisogna evitare la notizia, certo che bisogna guardare i telegiornali, ecco perché perdi follower. Hai visto, la gente ti segue e te mandi un messaggio sbagliato, invece bisogna essere informati. Allora, primo, l'informazione non si ottiene esclusivamente dai media e né dal telegiornale, anzi, ci sono milioni e milioni di notizie che accadono giornalmente e il telegiornale ne riporta 5-6 a serata. Ovviamente ci sono i telegiornali più di nicchia, o anche giornali più specializzati in alcuni ambiti, ovviamente, però il TG5, quello che tutti la sera guardano, oppure Rai 2 o quel che è, che cosa porta? Allora, partendo dal fatto che ho lavorato anche nel mondo del giornalismo e ho studiato come funziona la psicologia umana, eccetera, sono laureato in scienza della comunicazione, ma non è per questa cosa che dico io ne so più di voi, no, non è che ne so più di voi, è semplicemente la mia opinione, ognuno è libero di pensarla come vuole, però non sto parlando così a vanvora, sono cose che sicuramente ci credo tantissimo e appunto la mia vita è così e consiglio queste cose a chiunque mi segua. Perché evito i telegiornali? Non è perché voglio evitare le notizie, ma è perché i telegiornali sono abituati a dare negatività per ottenere attenzione. Ricordate che il numero, diciamo il compito del giornalista, che è un lavoro, è un lavoro che si fa tranquillamente come anche dei libri professionisti, è un lavoro, cercano di ottenere attenzione per avere quell'articolo che gli fa andare avanti la carriera o che gli permette di portare il pane a casa. Quindi non è colpa dei giornalisti, però come funziona? Il cervello umano reagisce di più per sopravvivenza, per istinto, a livello naturale, a una notizia negativa confronto a una notizia positiva. Perché? Perché se io ti dico, attenzione, lì tra 5 metri ci sarà un burrone, il tuo cervello è più attento al burrone confronto a se ti dico, fra 5 minuti avrai qualcosa di positivo che ti arriva. Sei più contento, però stai più attento al burrone. È una metafora stupida, però è per far capire che per istinto il cervello umano reagisce più a cose negative che a cose positive. Detto questo, noi tendiamo dunque a dare più attenzione quando nei media ci danno notizie negative. Dunque, questo cosa porta? Per una legge del mercato, una pura e semplice legge del mercato, una notizia negativa in cui è morto poveretto un bambino in un incidente stradale, porta 10 milioni di persone che hanno guardato l'intero, l'intera sezione sul telegiornale, 10 bambini nati nello stesso momento durante la luna, notizia positiva esempio, durante la luna rossa porta invece la metà o un quarto o addirittura un decimo delle visualizzazioni e del watch time di quella notizia? Perché un giornalista dovrebbe concentrarsi su quello se quello porta di più oggettivamente? Quindi, purtroppo, per legge del mercato e perché l'essere umano, non è colpa di nessuno, tende di più a dare peso alle notizie negative confronto a quelle positive, i giornalisti cercano e trovano sempre più notizie negative. E per la legge dell'attrazione, che poi qualcuno ci voglia credere o no, quella è una cosa loro, però purtroppo è così, più cerchi e più trovi. Quindi cerchi notizie negative, trovi notizie negative, accadono notizie negative perché tutti se le aspettano. Quindi nel momento in cui io stasera accendo il telegiornale ci posso scommettere tutti i miei soldi che almeno 9 delle notizie che ci sono su 10 sono negative. Poi magari c'è quella notizia positiva che accade e quindi vabbè. Quindi non è questione di evitare l'informazione. Ovvio, i media sono molto importanti e quando c'è stata, quando nella storia la possibilità di ottenere l'informazione finalmente a tutti e un'informazione oggettiva c'è stata questa libertà, è stato un grande passo per l'uomo. Ma non è quello il punto. Il punto è, noi automaticamente abbiamo scelto quale tipo di contenuti consumare. Come quando YouTube ti mostra quali sono i video che ti piacciono, perché sai esattamente quello che guardi. Stessa cosa, i giornalisti sanno quello che guardi e quindi ti danno quello che vuoi vedere. Purtroppo, per il nostro cervello, anche a livello inconscio, senza saperlo, preferiamo le notizie negative. E quindi, tutto ciò, che cosa comporta? Porta al fatto che io, cittadino italiano normale, standard, arrivo a casa dopo il lavoro, mia moglie sta male, tutta la solita cosa, si lamenta che magari è andata male la giornata, oppure arrivano i figli stanchi da scuola, sono tutti stanchi, vabbè, cena, finalmente cena tutti insieme a casa, accendi il telegiornale, bam, bombardata di 10 notizie negative, il mondo sta andando peggio, tutto sta crollando, quello è morto, l'altro cosa ha fatto, il calcio sta andando male, la borsa scende, il virus, la pandemia continua a salire, e tu wow, wow, vabbè, insomma, ne discuti durante tutta la sera senza neanche darci troppo peso in realtà, perché non è una cosa conscia, ricordate, è una cosa inconscia, tac, spegni la tv, vai a letto, cosa pensi che succede nel tuo cervello tutta la notte, dopo questo bombardamento di notizie negative nel momento in cui sei più vulnerabile, ovvero la sera durante la stanchezza. Quindi io non sono una persona che dice evitiamo le informazioni, però esistono tantissimi altri modi per informare, anche molto più oggettivi sinceramente della televisione, c'è Google, c'è i giornali, ci sono giornali di nicchia, ci sono siti web, ci sono blog, perché demonizzare internet quando in realtà internet porta la conoscenza di tutti, la portata di tutti. Quindi sì, i media possono essere utili, però secondo me io se posso scegliere di guardare il telegiornale preferisco non guardarlo. Non perché evito le notizie, sinceramente un po' per sentito parlare, un po' per giornale, un po' perché comunque mi basta aprire le storie di Instagram o perché comunque sono notizie che è difficile evitare. Le notizie più importanti mi vengono, vengono a trovarmi. Le notizie meno importanti che rovinano la giornata di milioni e milioni di persone ogni sera guardando il telegiornale non mi arrivano e sinceramente sto dieci volte meglio a sapere che oggi quello è andato male. Se invece voglio sapere un'esclusiva notizia perché voglio sapere quella notizia lì a tutti i costi vado a cercarmela. Quindi non è tanto questione di evitare la notizia in sé, l'informazione, è questione di evitare la negatività. Perché ragazzi a voi sembrerà stupido ma nel momento in cui vi informate un po' sulla spiritualità, sulla self-care, quindi la cura di se stesso, imparare ad arrivare in alto, avere un mindset corretto, la psicologia, la sociologia, capirete che essere positivi, che uno lo voglia o no, non parlo di positività tossica, parlo di essere semplicemente positivi, è alla base di tutto. È alla base della salute, è alla base delle relazioni, è alla base del successo, è alla base della carriera, è alla base di vivere sereni e in libertà. Quindi se io devo contaminare la mia positività giornaliera con delle notizie di cui purtroppo anche se le vedo non mi cambia niente, anzi purtroppo non posso farci niente per quelle cose, preferisco vivermela meglio e non chiudere gli occhi, non è questione di chiudere gli occhi, è questione di selezionare meglio le cose su cui concentrarsi, perché ricordate che se voi vi concentrate su cose positive, arrivano e succedono cose positive. Come disse, voglio concludere questo video, è la mia opinione ripeto, voglio concludere questo video con una frase di, dicevo questa cosa anche Gandhi, ma è una cosa che mi sembra madre Teresa di Calcutta disse anche, se fate una conferenza contro la guerra non invitatemi, se fate una conferenza per la pace invitatemi pure, o qualcosa del genere. Questo per farvi capire, smettiamo di parlare di come le cose vanno male, perché se continuiamo a parlarne le cose andranno sempre peggio, iniziamo a parlare di cose più positive e allora le cose andranno meglio. Concentrarsi sul positivo porta più positivo. Quindi se i giornalisti, tra virgolette, invece di usare la tattica di parlo di cose negative e cose brutte che sono successe, così ho più attenzione delle persone e quindi ne succedono ancora di più, usassero la tattica opposta, parlo di cose positive, quindi le persone si concentrano su cose positive, vedono che il mondo è un posto bello, invece che ogni sera essere bombardati da, oddio questo posto fa schifo, cioè questo mondo fa schifo, guarda quante robe negative esistono. Se invece mettessero solo cose positive, che ne succedono tante di cose positive ogni giorno, fidatevi solo che vengono filtrate, parlassero di quello, le persone vedrebbero il mondo da una prospettiva più positiva, quindi succederebbero e accadrebbero cose più positive e quindi magari all'inizio portano meno visualizzazioni, però più avanti portano un mondo migliore. Questa è la mia opinione, spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, non voglio fare discussioni, non voglio lasciare adesso che tutti i miei iscritti nei commenti non capisci niente eccetera, questa è la mia opinione ed è quello che farò per tutta la mia vita. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!